Il Napoli si appresta a chiudere una delle stagioni più negative dell'era dell'Aurentis, ma l'intenzione è quella di farlo quantomeno a testa alta. Gli azzurri in teoria sarebbero ancora in corsa per un posto in Conference League, che però dipenderà dai risultati di Torino in campionato e Fiorentina in finale contro l'Olimpiakos. Per l'ultima gara di Serie A ci sarà il Lecce al Maradona, un Lecce già salvo grazie al lavoro di Luca Gotti, arrivato a marzo in una situazione molto complessa e capace di sbrogliarla alla grande nel giro di un mese. Faranno di tutto per salutare il pubblico partenopeo, Víctor Osimène e Piotr Zienischi, che faranno le valigie a fine stagione. Il bomber nigeriano, accusato un affaticamento muscolare post-Bologna, è saltato alla sfida del Franchi, mentre il centrocampista polacco è out da oltre un mese per una lesione al polpaccio sinistro. Entrambi hanno lavorato a parte in settimane e proveranno uno sprint finale, almeno per strappare una convocazione. Nell'allenamento di ieri si è fermato anche Amir Rachmani a causa di una tendinopatia. Il centrale kosovaro è da considerare in dubbio per domenica, al pari di Mario Rui, che sta rientrando da un'infiammazione al ginocchio. Grazie. Grazie. Grazie.